E allora siamo qui a Patti Marina, sul lungomare si è appena svolta la seconda Strapatti che è una passeggiata a scopo di beneficenza che si svolgerà dallo scorso anni qui a Patti organizzata dall'AVSI, Associazione Volontari Servizio Internazionale abbiamo il piacere di avere qui il Presidente Nazionale Artulo Aliberti che ci parlerà della manifestazione ovviamente e dello scopo della sua associazione chiaramente per www.telepatti.it Ringrazio innanzitutto tutti gli amici che hanno organizzato questa gara di beneficenza che andrà a sostenere il lavoro di una nostra amica ugandese, Rose che assiste circa 700 donne ammalate di AIDS o siropositive e circa 2000 bambini, molti dei quali orfani questo lavoro che sta facendo è un lavoro molto prezioso perché soprattutto per i bambini impedisce che vengano emarginati che vengano abbandonati e quindi non diano un contributo positivo alla loro crescita e alla crescita del loro paese quindi anche questa manifestazione che è stata fatta a Patti è per noi molto importante perché tanti amici in Italia ci hanno aiutato e se non ci fossero tutti questi amici che ci aiutano noi non riusciremmo a sostenere quest'opera che è molto importante per lo sviluppo dell'Uganda e del popolo ugandese vuole fare qualche altro appello, vuole parlare in generale di quello che è organizzato e degli scopi dell'associazione l'Avsi è da più di 30 anni che è impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo siamo presenti in più di 30 paesi, in 34 paesi con 100 progetti che riguardano il settore sanitario, il settore educativo, la formazione professionale e la lotta alla povertà urbana, la lotta alle baraccopoli dell'America Latina il nostro lavoro è sostenuto sia da fondi pubblici ma per il 50% da fondi privati che derivano da tante iniziative come queste cene, gare, tombole, tanti amici in Italia ci aiutano per cui ringrazio veramente tutti perché è veramente un miracolo della gratuità e della disponibilità che constatiamo ogni anno in Italia Saluto per gli amici del sito web di telepatti.it E approfitto di questa occasione che mi ha dato per salutare tutti gli amici che ascoltano telepatti.it perché la comunicazione per noi è un altro elemento importante per far capire chi siamo, cosa facciamo e come la gente può aiutarci grazie a tutti Grazie dottore Arturo Alberti al microfono di www.telepatti.it Grazie a tutti 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 Grazie a tutti